Noi partiamo da queste esperienze in relazione popolare connesso all'articolo 117, la prima esperienza che ci risulta in Italia in cui noi provochiamo e chiediamo all'amministrazione di collaborare insieme a noi presentando una delibera ufficiale, nel senso da discutere in aula nel Consiglio Comunale e nella giunta e col prossimo sondaggio. Questo è il tema della giornata di oggi, ci farebbe piacere una tua valutazione. Sì, mi sembra che il tema sia molto importante perché noi stiamo vivendo un momento in cui la politica, anziché fare gli interessi di tutti i cittadini, sembra che faccia gli interessi delle lobby. Per dirla tutta l'ultima esperienza delle trivelle dimostra che nel senso del governo non c'è tanto l'idea di proteggere il territorio italiano per il sud, il petrolio e il petrolio, ma di donarlo gratuitamente a un'impresa straniera, a cui pare sia la donna, rimettendone lo sfruttamento parziale o totale alla volontà di questa impresa senza limiti di tempo, violando così anche tutte le norme sugli attivi. Credo che questo sia l'ultimo esempio, ma dallo suo attitare un po' il senso di questo. A me si interessa molto la tua domanda perché di fronte a degli errori, che saranno sicuramente in buona fede, dei nostri governanti, c'è un rimedio proprio nella Costituzione. Nella Costituzione che prevede la rappresentanza politica e l'azione diretta dei cittadini, il popolo costituisce un contropotere che controlla il governo. Se il governo sbaglia, il popolo interviene direttamente a tre livelli. A livello legislativo, e lo sanno quasi tutti, attraverso il referendum e il proponimento di leggi di iniziativa popolana. Sul piano amministrativo è fortissima la possibilità di intervenire perché non solo la Costituzione, articolo 3 ad esempio, ogni cittadino può partecipare sul piano politico, però anche legislativo il concetto di massima cottura, ma anche la legge ordinaria, precisamente gli articoli 9 e 10 della legge 141 del 1990, dice che i portatori di interessi diffusi, allora di modo quegli interessi diffusi, anche come potete dire, i portatori di beni comuni, di interessi comuni possono chiedere al responsabile del procedimento amministrativo lo Stato degli atti a estrarne copia pagando semplicemente il costo della carta e della stampata. Quindi l'intervento del cittadino nell'azione amministrativa è garantito, ma poiché tante volte non basta entrare in un'amministrazione. L'amministrazione continua nei suoi errori, allora c'è l'ultimo traguardo, quello che Calamandrei chiamava l'ultima istanza che ha un cittadino, quello di ricorrere alla coscienza del giudizio, cioè l'azione giudiziale, cioè l'azione popolana. Il cittadino singolo associato, quindi come parte del popolo, può svolgere attività di che avesse generale secondo il principio di sussidio di voto. Questo è l'articolo 117 che ho inizialmente citato e che per me è il fondamento delle azioni popolari. Quindi singoli cittadini o associati, meglio associati, possono ricorrere al giudice per corveggere addirittura le leggi portandole davanti alla corte di sussidio. Un esempio brillante è stato quello dell'avvocato Besostra che ha eliminato in porcellum con un'azione popolare di questo tipo. e aggiungo che sulla giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la legittimazione ad agire non solo delle associazioni ufficialmente riconosciute come le associazioni ambientaliste di produzione sociale, di consumatori, ma anche i comitati fortemente radicali. Quindi si apre una strada che non dobbiamo lasciare, perché noi possiamo ricorrere insieme per far valere i reali interessi dei cittadini contro l'esfruttamento di una finanza sempre complimenti che taglia i pelli dei cittadini e se ne approva in delitalia. Grazie.